un saluto a tutti dallo specchio vuoto con questo primo video iniziamo a trattare quella che è il primo argomento della playlist sulla meditazione profonda e ci concentreremo sulle prime due nobili verità che cosa sono le nobili verità le nobili verità sono riprese dal buddismo il nucleo delle nobili verità composto da quattro nobili verità e le scrisse siddhartha gautama ha detto il buddha dopo un'esperienza in meditazione quindi durante una meditazione profondissima che condusse nel parco dei cerbi il buddha intuì queste quattro nobili verità e le scrisse per dare un fondamento a quella che poi verrà chiamata la religione buddista quindi diciamo il nucleo del buddismo e queste quattro nobili verità sono anche delle verità tradizionali e possono essere prese come riferimento anche dalla meditazione profonda anzi la meditazione profonda si rifà a queste nobili verità appunto le prende proprio come riferimento perché perché sono verità sono talmente profonde che possono essere estese a tutti al di là della religione cui appartengono in questo caso il buddismo che non era una religione però sono appunto verità essenziali e profonde tradizionali quindi che a cui possano attingere tutti coloro che praticano percorso tradizionale con la t maiusco e quali sono queste quattro nobili verità sono queste che adesso vado a leggervi la prima è che è la verità del dolore ossia nella realtà c'è dolore la seconda è la verità dell'origine del dolore ossia che il dolore origina a causa dell'impermanenza di tutte le cose poi c'è la verità della cessazione del dolore e la verità della via che porta alla cessazione del dolore come vedete comunque queste quattro nobili verità riassumono un percorso che porta alla liberazione quindi è un percorso veramente positivo portano appunto alla libertà con la l maiuscola e in questo video noi andremo ad analizzare le prime due nobili verità ossia la verità del dolore la prima è la seconda la verità dell'origine del dolore che è a causa dell'impermanenza cosa significa impermanenza ossia che tutto passa tutto cessa e tutto si trasforma non c'è niente di stabile in questa realtà con questo si intende impermanenza per chi non l'avesse mai sentito e andiamo ad analizzare appunto la prima verità del dolore che cos'è il dolore il dolore è tradotto viene dal termine scusa dukkha e dukkha è tradotto come dolore ma in realtà dukkha ha un significato un po più ampio rispetto a quello che noi intendiamo come dolore come può essere un dolore dovuto all'essereci scacciato un viso o un dolore psicologico dukkha è un termine che appunto un po più ampio e come significato può essere un qualcosa che è incapace di soddisfare oppure è qualcosa che non è in grado di sopportare una situazione o di opporsi oppure qualcosa che è sempre in trasformazione ed è incapace di appagarci o di renderci felici quindi questa è una definizione molto più ampia che dà proprio l'idea del perché ci sia dolore appunto il dolore affligge l'uomo a causa del fatto che si cerca la felicità si cerca il proprio appagamento nella realtà esterna che però è una realtà impermanente ossia che continua a cambiare e scivola tra le mani è una realtà che sfugge e che non raggiunge mai il completo appagamento e proprio per questo guardando la realtà da questo punto di vista siamo come immersi in una in una catena in cui le cose si ripetono si reiterano dei meccanismi si reiterano dei comportamenti perché si crede nel profondo che la libertà stia nel raggiungimento di un qualche obiettivo di una qualche soddisfazione personale o di un qualcosa che appunto può renderci finalmente felici per sempre ma in realtà tutto questo non fa altro che allontanarci dalla verità e dal momento presente e appunto il dolore affligge l'uomo a causa dell'impermanenza ma anche per il fatto di vedere le cose da una prospettiva scorretta da un punto di vista duale quindi appunto da un punto di vista in cui si cerca in un qualcosa di esterno il proprio appagamento e tutto questo ciclo di trasformazione tutto questo divenire nel buddismo è chiamato samsara questa continua trasformazione di tutto l'aspetto fenomenico cosa significa fenomenico appunto di tutto quello che viene percepito dai sensi e nel buddismo tutto quello che viene percepito dai sensi e dalla coscienza è una creazione dovuta ai cinque scandal che però non approfondiremo in questo video tornando quindi sulla verità del dolore vediamo che possono esserci veramente tanti tipi di dolore che affliggono comunemente l'uomo e affliggono comunque anche chi supera la verità del dolore nel senso che arriva ad un punto di vista più distaccato però ad ogni modo anche lo stesso buddha viveva in una realtà umana quindi una realtà in cui il dolore comunque permane è il punto di vista con cui si affrontano queste situazioni che cambiano e si affronterà in maniera totalmente diversa la situazione comunque il dolore è di vari tipi nel buddismo li hanno classificati moltissimi c'è appunto il dolore inerente alla nascita stessa quindi dal momento in cui veniamo al mondo il dolore dovuto alla malattia, alla vecchiaia, alla morte ma anche il dolore stesso dovuto al ricercare il piacere o la felicità all'esterno oppure di fuggire dallo stesso dolore e oppure il dolore dovuto alle situazioni che mutano, agli eventi, alle cose che cambiano tutta la vita è un continuo cambiamento e il fatto di vivere in una realtà in cui tendenzialmente noi in maniera rigida fissiamo le cose, cerchiamo le medesime sensazioni vogliamo ad esempio che una situazione rimanga tale per sempre se ci rende felici come ad esempio una bella relazione oppure ad esempio una carriera pagante ecco tutto questo è frutto di schemi mentali e di una profonda identificazione con il duale e questo porta a vivere nel dolore perché poi inevitabilmente le cose cambiano, cessano e terminano ad esistere oppure appunto non sono più quello che erano inizialmente magari appunto lo stesso lavoro che inizialmente ci piace dopo molti anni può venirci veramente a noia e quindi crearci del dolore quindi tutto questo però è da guardare dal punto di vista corretto ossia perché tutte queste cose cambiano non bisogna indagare appunto il perché cambiano cioè è un prenderne atto che è così da questa presa di consapevolezza allora poi si attua un atteggiamento diverso verso la realtà ma non si cerca di modificare la realtà in maniera tale che le cose tornino ad essere come ci interessano a noi come vogliamo che le cose siano ed è questo che tendenzialmente si fa soprattutto qua in occidente si concentra il 99% se non ormai beh no, la totalità è impossibile però la maggior parte degli sforzi è verso l'esterno l'iniverso continuo a cambiare, modificare la materia creare eventi, le cose tramite la tecnica, la scienza eccetera e tutto questo cambiare, tentare di cambiare l'esterno per far sì che suma la forma desiderata da alcuni poi dall'altro questo fa sì che si cerchi inconsciamente veramente di alimentare poi quello che Buddha diceva essere la verità del dolore perché la realtà continuerà a cambiare lo stesso modifichi una cosa questa ancora cambierà quindi piano piano concentrando tutti gli sforzi verso l'esterno ma inevitabilmente si soffierà e questo cosa significa? significa cominciare a prendere atto che questo meccanismo che abbiamo perseguito per anni di continuare a trovare all'esterno le soluzioni deve essere cambiato deve essere osservato poi piano piano diciamo si comprende che il problema non è neanche questo cioè non è un problema agire nel mondo cambiare le cose il problema appunto è come noi eseguiamo queste azioni perché se no sarebbe sempre un qualcosa ecco questo è importante da dire cioè che si cerca sempre qualcosa di mutilato nella meditazione profonda si prende questa verità appunto tramite queste entro quattro le verità e appunto tramite la pratica quotidiana pian piano si tolgono le incrostazioni da noi stessi si toglie tutto il superfluo e si arriva pian piano sempre di più alla sorgente di noi stessi e quindi poi anche ad agire nel mondo in maniera unita con se stesso quindi non si è più scissi si è come diceva Platone uno con il tutto e quindi si agisce in maniera coerente non si è più vittima della catena di dolore ma questo è l'ultimo passaggio è la via della liberazione dal dolore però quella è anche la quello che possiamo chiamare il fine di tutte queste nobili verità cioè farti comprendere quella che è la dimensione in cui si vive normalmente per poi uscirne come tramite la meditazione tramite la contemplazione tramite un percorso e tramite la guida di un maestro quindi tramite appunto la pratica quotidiana non serve a niente comprendere queste diciamo quattro nobili verità solamente con la mente o meglio serve ma solo fino a un certo punto comunque è meglio che niente ma poi per attuarle veramente bisogna praticare bisogna meditare quotidianamente sotto la guida di un esperto maestro e con la compagnia di ricercatori del sangha e poi appunto anche approfondendo questi elementi ma deve esserci in primis la meditazione la pratica quotidiana allora anche lo studio rientrerà all'interno della pratica stessa e questo è appunto come si collega poi con la pratica della meditazione profonda ad esempio queste quattro nobili verità perché arrivando pian piano con la pratica andando avanti piano piano con la pratica si riscoprono quanto queste verità poi siano effettivamente verità che vanno proprio alla radice perché le stesse intuizioni che si ottengono con la pratica poi corrispondono a quello che aveva scritto il Buddha migliaia di anni fa come si vive normalmente questo dolore? io ho trovato una storia che fa un po' di chiarezza su come si vive normalmente il dolore come invece questo cambia quando si inizia a praticare e vado a leggervi la storia è un estratto del discorso della doppia freccia di Buddha Monaci una persona ordinaria senza istruzione prova delle sensazioni piacevoli, dolorose e neutre un discepolo istruito dalle nobili persone prova anche lui delle sensazioni piacevoli, dolorose e neutre allora quale differenza c'è tra i discepoli istruiti dalle nobili persone e la persona ordinaria senza istruzione? quando una persona ordinaria senza istruzione prova una sensazione dolorosa si lamenta, è triste, si ripercuota il petto e si angoscia perché prova due dolori quello fisico e quello mentale è come se si tirasse una freccia ad un uomo e dopo ancora un'altra così proverebbe il dolore di due frecce quando prova questa sensazione di dolore si oppone per contrastarla si culla nel piacere sensuale perché? perché la persona ordinaria senza istruzione vede un unico rimedio alle sue sensazioni di dolore il piacere sensuale quando si culla nel piacere sensuale è assalita dal desiderio di piacere non discerne tale sensazione come è in realtà la sua origine la sua cessazione, la sua crescita, i suoi ostacoli o altro rimedio ad esso quando non discerne né la sua origine né la sua cessazione né la sua crescita né i suoi ostacoli né una via di salvezza da tale sensazione allora è guidata dall'ignoranza riguardo ad ogni tipo di sensazione quindi cosa ci sta dicendo? quindi innanzitutto qua differenza tra discepoli istruiti e discepoli non istruiti ogni istruzione significa semplicemente discepoli che praticano quotidianamente la meditazione quindi sono istruiti dalle nobili persone nobili perché sono consapevoli è semplicemente quella la differenza sei consapevole perché pratichi quotidianamente appunto sotto la guida dell'esperto maestro invece chi non pratica possiamo dire è come se vivesse il dolore con una doppia freccia come una doppia freccia quindi c'è la prima del dolore e la seconda è la sua reazione mentale a questo dolore a cui si oppone e a cui si cerca un rimedio attraverso il piacere sensuale di fondo cosa ci sta dicendo? cioè ad esempio facciamo l'esempio che uno ha un grande mal di testa e gli sta scoppiando la testa anche qua uno potrebbe dire si osserva il dolore e ti passa cioè nel senso sii consapevole della cosa e basta e non curarti no cosa ci sta dicendo? come possiamo attualizzare questo estratto? con appunto sempre questo esempio uno ha un grandissimo mal di testa allora prende una medicina per curarsi poi se la medicina non funziona basta osserva la situazione osserva che c'è il dolore non sta a lamentarsi a disperarsi e a creare ulteriori ostacoli alla sua situazione già dolorosa ma semplicemente si mette in una quieta osservazione di aver fatto quello che poteva fare e basta poi una volta fatto quello che doveva fare noi poi abbiamo detto aiutati e Dio ti aiuta a quel punto possiamo dire che è tutto nelle mani di Dio e bisogna affidarsi invece non affidandosi non avendo questa capacità di osservare il dolore ordinariamente ci si dispera se ad esempio non funziona una medicina e il dolore continua ad aumentare e la malattia non passa però appunto non bisogna cadere nell'estremo che quando si osserva non bisogna bisogna puramente osservare il dolore no perché rimaniamo esseri umani è necessario comunque prendersi cura di noi stessi e invece qua appunto poi continua con continua la storia e vi porta la visione del discepolo istruito dalle nobili persone invece il discepolo istruito dalle nobili persone quando prova una sensazione di dolore non si lamenta e non si percuote il petto né si spaventa prova un dolore fisico non mentale come se si tirasse una sola freccia ad un uomo e non due toccato da questa sensazione di dolore non si oppone toccato da questa sensazione di dolore non si pulla nel piacere sensuale perché? perché il discepolo istruito dalle nobili persone conosce la via di salvezza da tale sensazione di dolore non si culla nel piacere dei sensi perché non è guidato dall'ignoranza discerne tale sensazione come è realmente l'origine la cessazione la crescita la via di salvezza provando del piacere ne è distaccato provando del dolore ne è distaccato provando una sensazione neutra ne è distaccato questo si chiama un discepolo istruito dalle nobili persone libero dalla nascita dalla vecchia e dalla morte dai dispiacere dai lamenti dai dolori dagli sconforti e dalle disperazioni libero dalla sofferenza e dall'angoscia il nobile istruito è consapevole dell'impermanenza dei fenomeni e quindi non si oppone ma ne osserva e ne discerna il nascere il crescere e il finire del fenomeno allora torniamo all'esempio di prima l'esempio 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 del mal di testa sicura e si osserva la situazione senza lamentarsi perché perché appunto non è guidato dall'ignoranza cioè il problema non è guarire che certo sicuramente la guarigione è una cosa buona e giusta però non è quello il fine ultimo il fine ultimo comunque sapere comprendere che tutto cesserà anche la guarigione stessa e poi dopo ne verrà un'altra oppure così via fino alla morte quindi è tutto un gioco che continua a perpetuarsi quindi qual è l'atteggiamento di usaggio? l'osservazione distaccata sia dal dolore proprio perché tutto è un continuo divenire non c'è un elemento fisso la mente che ci può dare una felicità duratura anche se appunto cioè in questo caso la salute è comunque una cosa una cosa buona però appunto non è eterna neanche questa ed è una condizione che non dovrebbe mai essere data per scontare quindi abbiamo tutto questo mondo di continuo cambiamento e come si esce dal dolore cambiando il punto di osservazione rispetto agli accadimenti stessi e con questo è tutto e vi mando è tutto per il primo video vi mando un caro abbraccio e ci vediamo al secondo video in cui affronteremo le ultime due nobili verità grande abbraccio dallo specchio vuoto che ci vediamo